Maxi operazione antimafia oggi a Paternò. Colpito il clan assinnata affiliato alla famiglia catanese Santa Palo di Cosa Nostra. 14 gli arrestati, dei quali 13 in carcere e uno posto ai domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica. Oltre 100 i carabinieri del Comando Provinciale di Catania impegnati, coadiuvati dai repatti specializzati della Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione Sicilia, dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal Nucleo Elicotteri di Catania. Gli arrestati devono rispondere alle reati commessi dal 2012 al settembre 2013 di associazione di tipo mafioso, estorsione e associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno delineato un'organizzazione mafiosa di tipo verticistico piramidale, con una chiara suddivisione dei compiti. Il boss utilizzava i gregari per recapitare messaggi, recuperare sommi di denaro, consegnare e spacciare lo stupefacente. Tutti gli accolti erano tenuti a versare i proventi delle varie attività illecite in una cassa comune, dalla quale venivano ricavati gli stipendi degli affiliati e i costi del mantenimento dei familiari di coloro che erano detenuti. Dalle intercettazioni cappettate tra alcuni affiliati emerge il ruolo indiscusso di Salvatore Assinnata. Lui è il top dei top, dicono. Atturi Assinnata non può imprunghiare manco Dio. È emblematico anche l'episodio in cui Daniele Beato, avendo sentore che da lì a poco gli sarebbe arrivata una condanna definitiva, dialoga con Luca Vespucci, al quale dice che sarebbe dovuto avvenire il passaggio del testimone e che ora doveva iniziare a lavorare al posto suo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie per la visione!